Un accordo di collaborazione importante con cui prepariamo risorse future attraverso la verifica delle loro reali attitudini. I giovani possono costruire così nuovi percorsi di vita e di lavoro. A spiegare l'importante intesa tra l'ufficio scolastico regionale e la regione Abruzzo sono stati il presidente Luciano D'Alfonso e il direttore Ernesto Pellecchia per il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole attraverso la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro. Un protocollo di intesa che si aggiunge ad altri protocolli di intesa già sottoscritti in precedenza con pubbliche amministrazioni ma rispetto a quelle già sottoscritte c'è un elemento in più qualificante che è dato dal fatto che l'ente sottoscrittore è appunto la regione che nell'ambito del panorama degli enti pubblici della regione è per importanza, per rilevanza e per quanto altro di gran lunga più importante. Quindi noi ci aspettiamo che da questo protocollo di intesa possa svilupparsi nei prossimi giorni, nell'immediatezza, una proficua collaborazione proprio per assicurare alle scuole le migliori condizioni perché possono in modo proficuo e in modo efficace svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro. Con la firma del protocollo si potenzia l'offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro per gli studenti che frequentano il terzo, il quarto e il quinto anno degli istituti tecnici e professionali e dei licei. L'obiettivo è assicurare acquisizione di conoscenze e sviluppo di competenza di base e trasversali nonché competenze spendibili nel mercato del lavoro debitamente certificate. Ma è un fatto positivo intanto perché i ragazzi portano esigenza, la dimensione dell'utenza. Secondo me aiuteranno anche a combattere quella piccola quota di pigrizia che a volte si trova dentro gli uffici. C'è un effetto sonnolenza che a volte si stabilisce. L'arrivo dei ragazzi secondo me costituisce una specie di medicina potentissima. Consente anche un ripristino di rapporto con la realtà esterna. E poi prepariamo risorse future attraverso per esempio una verifica delle attitudini. Di spiegare ciò che si è appreso nella scuola del dire, nel luogo della scuola del fare, che il lavoro questo di sicuro fa bene. Fa bene alla risorsa umana, fa bene alla scuola, fa bene al mercato del lavoro, fa bene anche al datore di lavoro che si costituisce parte concava per accogliere.